Pronto? Ciao Stefania sono Maria Maria De Filippi ho saputo che hai il tuo nuovo singolo e volevo farti una piccola intervista dopo la presidenza troia frappe vita bastarda e omologazione arriva legami a letto è un porno groove? Sì no no Maria guarda in realtà è la storia d'amore non corrisposta o meglio mai dichiarata da parte di una donna nei confronti del suo miglior amico. C'è qualcosa di autobiografico in questo pezzo? No 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 assolutamente è una storia di molte persone la storia di molte persone che non hanno il coraggio magari di dichiarare i propri sentimenti. Tu scrivi le tue canzoni e il tuo compagno il musicista Simone Gian Lorenzi li arrangio è vero? Esatto io scrivo i testi e la melodia e lui poi li incornicia con questi suoi arrangiamenti meravigliosi. Diciamo anche che i video che noi vediamo sono girati e anche montati da te. Sì 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 mi piace molto girare e montare i miei video insomma ho imparato a farlo e quindi è una cosa che mi diverte moltissimo. Che genere di pezzo sarà questo? Ma guarda questo è un pezzo pop step elettronico nel senso che c'è un po' di dub step un po' di pop un po' di elettronica e anche un po' di rock diciamo che è un bel mix molto godibile molto carino. Allora Stefania ti ringrazio in bocca al lupo per questo nuovo singolo. Grazie Maria grazie anche per la sorpresa un abbraccio a presto ciao a tutti.